L'obiettivo principale di questo progetto è di realizzare una soluzione tecnologica da integrare all'interno della piattaforma TREC in grado di consentire agli operatori sanitari di erogare servizi di visita remota, quindi la televisita, sia nell'ambito della medicina territoriale che specialistica ambulatoriale. Il progetto prevede una validazione sul campo di questo sistema attraverso dei studi pilota che coinvolgeranno utenti reali per misurarne il grado di soddisfazione, l'accettabilità e l'usabilità del sistema. All'interno di Trentino Salute 4.0, che è un attore che prevede quindi il coinvolgimento della PAT, dell'assessorato alla salute, dell'azienda sanitaria e di FDK.